Mister, partita praticamente perfetta, quattro gol fatti, zero subiti, clinciti in trasferta, secondo posto in classifica abbiamo sorpassato contro, sorpassato Lazio-Atalanta. Quello che resta è proprio il fatto di una squadra padrona del campo che forse, mi corregga se sbaglio, non ha avuto neanche la troppa frenesia di volerla forse chiudere troppo presto. Queste sono le tipiche partite dove comunque è tutto da perdere. E noi sinceramente oggi era una chance troppo importante il fatto di poter chiudere comunque il discorso Champions con cinque giornate d'anticipo, di riproporci come al secondo posto, di avvicinare chi ci sta davanti e tornare a sei punti a cinque giornate dalla fine. Quindi era una chance da sfruttare, altre volte purtroppo in passato avevamo fallito questo tipo di situazioni. E quindi da parte dei ragazzi sono contento perché c'è stato comunque uno step, uno step positivo, uno step mentale. hanno affrontato la gara con grande piglio. Non dimentichiamo che la maggior parte hanno giocato, venivamo dalla partita col Torino. Cose positive, cose positive. Di questo sono contento perché i ragazzi meritano di raccogliere i frutti del lavoro. Domande da studio per il mister? Sì, io al mister più che altro chiedo una considerazione perché, mister, dopo la partita con l'Ellas Verona eravamo tutti un po' tristi, no? Invece quando poi abbiamo parlato con lei, lei ha avuto un atteggiamento molto molto particolare. Ce l'aspettavamo delusa, invece è stato sempre molto positivo. Si è detto subito soddisfatto della prestazione dei ragazzi e noi siamo qui dopo due partite, anche noi con un altro atteggiamento. Dico, il mondo Inter. Ecco, che cosa è cambiato sotto questo punto di vista? Ecco, le faccio proprio i complimenti perché era una situazione molto particolare e lei è stato molto bravo, secondo me, a gestirla e a portarci alla gara con la Roma con un ottimo atteggiamento, completamente diverso rispetto a quello che ci aspettavamo. Sinceramente io penso che quello che è cambiato è un po' il risultato, no? Perché tante volte quando non c'è la vittoria i giudizi poi diventano negativi. Invece col Verona abbiamo fatto una gara, secondo me, di spessore a livello di intensità. Io poi ho visto anche i dati fisici. Le due squadre avevano corso in media a 11 chilometri ed è difficile trovare questo tipo di situazioni. Il Verona sappiamo benissimo che sta mettendo in difficoltà gran parte delle squadre e invece noi comunque eravamo andati lì, siamo andati sotto, però poi la partita l'abbiamo comandata noi. Da parte mia, ripeto, c'era e c'è ottimismo perché il lavoro che stiamo facendo è secondo me un lavoro importante che sta dando dei frutti anche a livello proprio di statistiche perché è aumentato in maniera importante il possesso palla, è aumentato in maniera importante l'indice di pericolosità da parte nostra e forse rischiamo qualcosina in più rispetto al passato, però al tempo stesso è una squadra che crea tante occasioni da gollo, sta segnando tanto. Non dimentichiamo che forse abbiamo anche oggi la miglior difesa, se non dico idiozio, c'è qualcuno al posto nostro. In più abbiamo portato anche un altro dato che secondo me deve far riflettere. 18 giocatori diversi al gollo, significa che comunque attacchiamo con tanti giocatori diversi, attacchiamo con i difensori centrali, con gli esterni, con i centrocampisti, non solo con gli attaccanti. Max? Ciao Antonio. Adesso i numeri cominciano ad essere importanti perché siete il secondo miglior attacco con 72 gol da questa sera, siete giustamente la miglior difesa come hai detto tu con 34 gol, in tutti i dati principali siete in testa al lato pratico come squadra, questo significa che il lavoro che è stato fatto è un lavoro importante. Ti chiedo questo in virtù della partita di questa sera, c'è stato qualche cosa che deve essere migliorato secondo te nella gara che avete disputato questa sera in funzione del fatto appunto che avete ancora 5 giornate e le distanze con chi sta davanti si sono accorciate molto? Sicuramente c'è sempre da migliorare, anche stasera abbiamo avuto secondo me diverse situazioni dove comunque potevamo sfruttarle meglio e magari fare anche più gol. Però, ripeto, bisogna essere soddisfatti perché queste sono partite scritte o facili solamente sulla carta, poi le partite le devi vincere. Oggi abbiamo dato una dimostrazione che questa è una squadra comunque che stiamo bene, bisognerà recuperare, bisognerà fare grande attenzione, infatti ho preferito anche rimanere a dormire qui a Ferrara proprio perché già a Verona eravamo rientrati alle 4 di notte. Adesso tornare di nuovo alle 4 di notte e rifare di nuovo un'altra partita tra neanche due giorni a Roma, di nuovo alle 21.45, significa comunque mettere a dura prova un po' tutto, da un punto di vista fisico i calciatori. Mi auguro anche per la prossima partita di poter recuperare Niccolò, Barella, speriamo di avere anche Romelu. Sensi piano piano si sta avvicinando a un pronto recupero. Adesso Moses oggi non l'ho voluto rischiare, però Moses è a posto, quindi tante cose positive. Soprattutto chi ha giocato oggi, mi riferisco a Cristiano Biraghi, che oggi ha fatto una grande partita, ma tutti quanti, quelli che sono chiamati, io ho poco da dire. Borca nelle precedenti due partite è stato il migliore in campo, Sanchez sta facendo delle cose importanti, sta diventando un punto di riferimento per noi davanti, perché tiene palla, è imprevedibile. Dai bene, anche Andrea Ranocchia oggi ha fatto una partita importante. Riuscire a coinvolgere tutti e avere delle risposte da parte di tutti, questa io penso che sia la più grossa soddisfazione per un allenatore. Mister, prima di salutarla, le chiedo proprio un flash sugli esterni, gol di Candreva, gol di Biraghi, assist di Ashley Young nel suo gioco. Immagino sei molto contento che questi esterni diano questo contributo. Sì, sono contento perché poi alla fine tante situazioni, comunque noi le proviamo e le riproviamo, quindi sono delle costanti che dovrebbero accadere in ogni partita. Quindi sono molto contento, sono anche molto contento. Oggi c'è stato l'esordio anche di Lorenzo Pirola, ragazzi di 17 anni, che sicuramente è un prospetto importante per l'Inter, si rimane con i piedi per terra, così come anche Esposito, ecco. C'è anche Gumera, un altro ragazzo di 17 anni. Io penso che ci siano tante cose positive, bisogna solamente andarle a vedere, scovare e che ci sia voglia da parte di qualcuno di metterle in risalto.